abbiamo iniziato da conto da 5 a 1 5 4 3 2 o no allora mi mostra questa volta due vite e nello stesso momento se mi fa vedere due scene una dove lei vedo come se fosse una regina un una persona della aristocratica diciamo così e poi da questa parte quindi donna e poi su quest'altra scena invece è una è un uomo quindi parallelo proprio due scene dove mi mostra una vita dove lei dove lui era un lui e aveva dei come dei vestiti stracciati da iussati insomma comunque rovinati quindi proprio in un modo e l'altro la il contrario quindi dove essere la prima parte perché alla prima vita te la mostra la prima vita è quella della dell'aristocratica dice perché la mostra perché era ricca sì perché lì ha fatto lei dice mi mostra delle scene dove era mi dice come se apparentemente serena nel senso comunque aveva non aveva problemi economici era passava le giornate facendo quello che le piaceva e disegnava in questa vita e scriveva nel tempo libero era moglie di un di una persona importante di un di un commerciante che ha qui in questo questa scena questa epoca questo in questa persona che era suo marito il suo compagno era ricco e quindi lei aveva molto tempo per se stessa mentre l'uomo della seconda vita cosa faceva potrebbe essere povero stava su delle navi e vedo come se andava periodi su delle navi per aiutare delle navi che pescavano del pesce era un aiutante di ultimo grado diciamo così e quindi con quel poco che riuscivo che riusciva a guadagnarsi veniva ricambiato in cibo e basta poi quando non era il periodo che si partiva lui era povero e solo molto solo non aveva famiglia non aveva non aveva modo di vivere bene non riusciva a vivere bene va bene ci dà l'autorizzazione alessandra la signora aristocratica sì e l'uomo di sé anche e alessandra alessandra sono loro due nel senso sono e la sua ps e la sua ps che si mostra in un modo e nell'altro ma visualizza l'alessandra che abbiamo visto skype che vediamo skype si mostra qui e con la sua fisionomia qui sulla mia sinistra è che come se a quest'anni ma gli piace cambiare personalità insomma da questa sensazione è come se fosse da male ontica lei chi dà anche lei l'autorizzazione sì sì 9 perfetto subito la vibrazione e la consapevolezza vediamo vibrazione 23 miliardi consapevolezza 127 per cento psp ps 75 molto presente vite precedenti 3872 percettuali di cervello utilizzata 5 e mezzo bene apriamo le porte del cinema chiamiamo invitiamo da tutti quelli che vogliono venire ovviamente ma specialmente i figli due figli vai dire anche l'ex compagno i genitori di alessandra tutti quelli che vogliono presentarsi prego film grano vengono subito è venuto un uomo e il compagno l'ex compagno subito in prima fila come l'abbiamo chiamato e si mette seduto in prima fila come se fosse un cinema io sono dietro c'è lo schermo lo vedo davanti quindi io vedo la persona di spalle nella mia nel mio non lui si mette davanti seduto e poi ci sono c'è una donna subito dopo una signora di una certa età madre e poi dietro vengono i due questi due ragazzi e li vedo ragazzi insomma più giovani e però si mettono nelle file dietro come se hanno un po più un po non paura però dicono siamo stati chiamati hanno sentito che poteva essere un qualcosa di utile e quindi vengono ma hanno un po paura di questa materia di tutto quello che va bene se stancheranno se ne andranno nella cinema non ha le porte chiuse chiave né dentro né fuori chi vuole entrare può entrare bene amo le persone chiamiamo il disincarnato il fratello morto suicida si presenta un un uomo un ragazzo un ragazzo che si siete mi si presenta seduto su una poltrona marrone dentro una casa si presenta così è lì lo vedo seduto dentro una casa in una casa che fa è in compagnia con l'entità è strano perché è molto perplesso come dire come se non però fa un sorriso sì di altro ci sono ci sono dei felini di altro c'è un felino un vedo come di portarsi e guardarlo il felino mentre lo guarda gli diciamo quella la tua interferenza quindi più che sorridere modo sardonico sarcastico quel che è mai fatto a dire io non l'ho detto lo stavo pensando però sorride in modo sarcastico lo volevo dire giù invece di fare tanto lo stupidino dovrebbe essere conto che tutto quello che ha fatto l'ha fatto perché dietro c'era il felino si gira e si alza dalla questa poltrona marrone e si allontana come se come se non non se ne ha reso conto ok sa che alessandra l'ha chiamato sì sì vuole dirle qualcosa per esempio il motivo del gesto dove dice questa frase io volevo andare via non ci volevo stare qua non volevo proprio scendere a me piace giocare da quest'altra parte come gioca come disincarnato sulla terra dove sta nella undicesima dimensione viaggia l'andesima dimensione e la terra quindi ok quindi viene anche sulla terra quando viene sulla terra doveva casa sua casa paterna dice e cosa fa spegne le luci entra nelle persone gli accarezzi i capelli poi mi piace giocare quindi invece di vivere il gioco vive il il gioco da fuori da disincarnato che non ha capito niente dice che così è più divertente perché noi non capiamo niente a bene quindi noi lui vede te che vede anche me abbiamo una consapevolezza abbiamo delle informazioni lui le può vedere sì però come se noi ne importa non mi importa i nomi diversi io concentro in una pallina chiusa nella mia mano destra tutta la mia consapevolezza e le mie informazioni entro nella scena e gliela mostro prendo la mano destra dove c'era nascosta la pallina gli mosto pallina questo è quello che io ho e che tu non hai sta guardando la pallina come la vedi azzurro la pallina mostra con un'emanazione con dei raggi che escono della pallina tutta la qualità e la quantità di informazioni e consapevolezza ma deve essere più scenica in modo che quando apre la mano si vede proprio sprigionarsi di tutto da quella pallina sta cercando di toccarla di vederla c'è la vede sta cercando di allungare la mano per toccarlo e ma non va bene lui si diverte a fare gli scherzetti non gli frega niente di sta cosa tra me ha tratto qui ne ha tratto sì sì non per lui non è roba per lui non è d'accordo di altro da fare deve fare gli scherzi deve andare in undicesima dimensione dove cosa fa in dodicesima dimensione dodicesima quello che sta con leoni le promettono cose le danno come delle spinte a fare cose a in realtà è come se fosse preso come posso dire bene da lui cosa vuole dire alla sorella messaggio finale vuole prendere la pallina azzurra cosa vuole dire alla sorella aiuto aiuto va bene apri un aureo e la sua pallina azzurra lo aspetta dentro oltre il portone di fatto la avrebbe avuto quelle informazioni con la consapevolezza ovviamente la sua consapevolezza sarà differente la riformazione sono quelle se è innalzato e quando abbiamo aperto il portale lui si è girato e ha visto come se avesse avuto una un attrazione a livello proprio energetico fosse stato attratto molto quindi è salito su come lo vedo sempre quando fanno questo processo sale è salito su e si mette davanti l'entrata del portale aureo e diventa energia dorata mentre prima si mostrava come un corpo di un ragazzo è andato si gira e saluto dice adesso voglio andare via un po bel come altro lo so si vergogna bene bene va bene ma non chiudiamo il portale lui è andato chiama i quattro nonni senza messaggi senza descrizioni chiama lì dimmi se si presentano tutti e quattro tutti nel portale aurea davanti si presenta una signora di una certa età che fa la la maglia accanto c'è un signore con un si regge con un bastone questa e sono i materi materni che la nonna la saluta molto era molto attaccata a lei sì c'è alessandra che annuisce il bastone quello i materni sono i materni ed anche la ma nonna materna era molto attaccata a lei sono arrivati subito infatti ti salutiamo possono andare nel portale chiamiamo i paterni si sono presi per mano e hanno la nonna ha tirato un bacio alla alessandra e sta piaggendo di non di tristezza ma di come dire felicità o emozione si si prendono per mano e lasciano il bastone la maglia tutto giù e si trasformano in energia insieme e vanno su per portare erano fiamme sì 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 perché lo mentre prima che prima che me lo dicevi stavo guardando proprio questo perché sono proprio unite come dire fuse in un'unica energia energia queste due anime fai saprino a vedere se cosa fanno vai velocemente a vedere dove vanno due fiamme che hanno passato la vita insieme che passano nel portale aureo che si uniscono andando di là in un'unica cosa dove vanno escono dalla matrix diventa un'unica cosa in realtà come se si fondo in un'unica energia molto molto più potente che di una singola è come se diventano mai solo dalla matrix io vedo questo bellissimo tunnel il quale sono entrata con loro lo sto attraversando un po sanno raggiù e arrivo fino a un certo punto e poi vedo come un uscita fuori da in un'altra un altro posto che non conosciamo non come se fosse non solo un'altra dimensione un altro un altro universo non lo so proprio un altro fuori da un'altra parte come se arrivano più vicino a una fonte energetica enorme come dire come se fosse il loro post sì ma vedo si mi si arrivano più vicino è come se vedo questa fuori da questo tunnel che sono andata sono entrata dentro ho provato che poi io sono tra parentesi mi vedo legata con un filo perché in realtà io non potrei andare lì e quindi è come se mi sento legata da un filo per tornare indietro sono lì sono entrata in questo tunnel bellissimo energetico si è aperto sono uscita fuori con loro e mi sono fermata e davanti a me vedo una enorme fonte di energia che mi vengono i brividi e pulita c'è bianca l'incontro voglio incontro allunga il filo arriva fino a dove puoi se puoi entrare dentro troppo adesso te vacci arrivo come se non posso andare non riesco ad andare loro sono andati ma io lì non ci posso andare come se fosse un non so non riesco ok visto che tutto quello che viviamo è responsabilità della sorgente lascia un messaggio qui nella sorgente dei margini della sorgente risolvete subito questa situazione che nessuno intende vivere nota al su manesimo no di per state no tutto questo trasformate questo incubo finalmente in un'esperienza costruttiva e valida per essere vissuta non questo incubo incubo non di adesso in cubo sempre perché l'esistenza è un incubo ma lei dice come se c'è la sensazione di oa come se questa fonte energetica sia dice ma siamo siete siete voi che non lo facciamo noi non capiamo mai niente certo non capiamo mai niente è la sorgente che crea questo casino e la sorgente che ha creato una matrix che sta implodendo non è più in compagnie non siamo noi sono loro perché vi sia destaccati allora vengano vengano anche loro a fare l'esperienza tutti tutti dentro no paura i co sono scesi loro stanno lì alla spa a fare la doccia solare perché non vengono e quando tenete dietro 10 100 mila miliardi di ps che stanno lì in vacanza la prima cerco di tirare qualcuno qualche che pare tutta energia un cerco preso del cerco di tirarla ma non non vuole venire non siamo codardi quindi la tanto amata sorgente fatta di codardi di caga sotto facile loro dicono non ci serve fare quello che state facendo a noi sì invece a me no per esempio io torno molto volentieri lì a me non serve niente allora non serve perché se l'informazione che raccogliamo noi arriva anche a loro perché a loro non serve o tutti o nessuno cosa stanno a fare lì dice qua è un posto dove dobbiamo stare qua il mobile lo status perfetto della nostra energia per la nostra e noi perché stiamo qua invece perché la che siete stati ingannati avete eseguito l'inganno va bene bene siamo i deficienti come siamo tutti uno sì però da parte di uno deve fare un'esperienza perché è stata ingannata dove stessi cosa vuol dire ci sono piccole parti di animo che si staccano e vengono prese come un retino per prendere le faffalle da odino di bene odino la matrice l'avvetato la sorgente tutto il resto sono balle non c'è nessuno che si è fatto ingannare siamo noi cioè anche loro che volutamente hanno voluto fare questo gioco non ci raccontiamo palle non ci sono le ps brave le ps cattive noi saranno le cattive le più stupide le più intelligenti loro sarebbero le intelligenti nelle stupide è tutto un gioco voluto in più lo dico alla sorgente siccome il tempo non esiste questo gioco si è già concluso quindi perché concluderlo chissà quando e non adesso o comunque perché infilarsi in una follia come il trasumanese alle porte se comunque il gioco è concluso non esiste cosa risponde perché serve noi siamo qui per fare esperienza tramite voi e raccresce e cambiare grazie lo status bene come si torna voglio cambiare nessuno stato se voglio chiudere questa cosa come si torna come mi scambio con uno che sta lì che venga a fare l'esperienza io torno a casa lascia al corpo no non è vero infatti nonni non stanno andando in sorgere nella sorgente è vera la cosa delle fiamme che bisogna essere con la propria fiamma o no io dico di no no ok come è forte non importa come si torna dire distruggersi la madrix vabbè lo saputo quindi nei neanche i nonni stanno tornando non ci avevano mangano tra noi e un pezzo di universo ok come si distrugge la madrix non dovete ritornare lì come non si torna più lì la consapevolezza di tutti perché tutti siamo la consapevolezza dobbiamo averla tutti è possibile siamo tutti fottuti sono tutti fottuti allora siamo tutti fottuti perché la consapevolezza ce l'ha 1 su un miliardo 1 su un milione non è nessuno con quattro gatti la gente non sa neanche cosa la consapevolezza la gente dice non è scientifico e si mette a ridere quindi quindi avete creato un casino totale atomico universale infinito avete creato un casino infinito altro che la sorgente le lacrimoni e i fazzolettini di carta riempiti di lacrime siete dei poveracci dei mentecatti nella sorgente la mente cattente mente cattolandia siete dei mentecatti siete concordi sa cara sorgente mentecatta abbiamo perso un attimo quindi la soluzione per voi è di non fare nulla e stare lì perché voi siete gli eletti e noi dobbiamo fare l'esperienza potete fare tutto potete fare alla matrix a romperla tutti potete fare quello che volete balle a meno la raccontate io sì che ho la consapevolezza apri adesso un buco cara sorgente fai entrare i nonni che sostanzialmente stanchi e vengano giù 10 miliardi di ps adesso sulla terra in tutti quelli che non hanno la ps improvvisamente ce l'hanno così sì che si fanno le cose e si risolvono è sempre consapevolezza le regole sono che poi si possono tranquillamente violare sono rispettate venite 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 giù adesso subito l'esperienza di un bambino a cui segano una gamba o un braccio o un piede mentre lo violentano per vedere quanto ci mette a morire questa è l'esperienza del deep state che avete creato questa quella lì che urla per giorni vengono gli occhi neri panda ice questa è l'esperienza per chiedere a moloch un'altra cazzata che avete inventato voi i favori questa è l'esperienza che dobbiamo fare dalla quale non possiamo uscire non ne abbiamo presi bene visto che si può fare adesso creato un bel tunnel e 100 miliardi di ps vengono nella matrix 10 miliardi non possiamo 10.000 ripite tutto il suolo italico di ps sono stufo di essere circondato da mentecatti che l'italia sia piena anzi l'europa sia piena visto che la vogliono distruggere nozzi ebbene sabrina torna indietro dimmi quando ci sei ci sei come stai eccomi come stai e come stato brividi è stato bello ma è forte è quasi come dire un'energia che non si legge è difficile da starci dentro vicino è forte è invadente come sentivi le risposte una specie di canalizzazione è come se questa energia entrava dentro di me non lo so come se ero io lì e loro qui ok i nonni sono entrati davvero si io ho visto proprio un certo momento che la sensazione che ho avuto è come se questa ammasso di energia di come se fosse un'unica ps non so una ps delle ps non lo so c'era l'unica energia potente proprio luminosa che non riuscivo non potevo guardarla già nel senso non riuscivo a stare fissa a guardarla infatti ero potente tanto potente avesse quando ci fosse sentita della serie c'è qualcosa che in effetti è sfuggito quindi avessero risucchiato proprio quando tu hai chiesto questa cosa le succhiate i nonni come per per risentimento no per dire ok e quindi ho visto loro due questa forma che erano i nonni che faceva così proprio risucchiata è andata lì di ora ragione ora non ci sono regole non ci sono regole ho sempre avuto ragione e lo sapevo non ci sono regole soltanto lo balle solo bla 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 soprattutto non c'è la regola della fiamma non c'è la regola del non possono tornare tutti possono tornare tutti tutti la consapevolezza vera grande è anche questa di essere sicuro di quello che in effetti era ok chiama velocemente in ogni paterni se si presentano vanno subito nel portale se no no sono andati molto molto lunghi ma era importante vederla questa cosa si presenta una signora con una gonna quadri e accanto un uomo con una cornomusa quando mi ne pari non gli salutiamo portale aureo il nonno suona la cornomusa la iera e la lascia qui sono andati no alessandra interferenze e tecniche vediamo proprio come elenco e 2 e dl di cui uno si muove particolarmente nella apparato digerente nello stomaco in l'altro di gira intorno c'è un felino sopra sopra vedo lei e sopra c'è questo è un leone felino leone però umanoide non è proprio felino leone insomma al viso da felino è un umanoide con altri due accanto a lui che sono quelli che gestiscono la situazione e poi sotto di loro ci sta un un'amantide per che comunica per quanto riguarda la sua mente in alto o di no sì secondo diverso c'è qualcosa no benissimo entità medinali due nel terzo livello ok preposte a quale compito scopo fine ci ha sentito a tratti scusami qual non ti senti che mi senti da stasi a che adesso si con che scopo sono posti a quale compito allontanarla dalla società vedo questa frase allontanarla dal 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 mondo come se lei lei in realtà è una persona molto potrebbe dare tanto una persona piena di vita piena di energie piena di idee però la tengono è come se fosse un'auto convinzione e che di cui lei si attrae diciamo situazioni per stare lontano dalla dal mondo e dovrebbe questo ma se non deve essere uscire dal giro è un gran peccato che molti nascondano il viso perché alessandra sto facendo delle espressioni annuisce ride si riconosce in tante cose e purtroppo chi vede il video non avrà questo piccolo privilegio va bene a saverina causa esoterica del fatto che intorno alle 3 qualche minuto più qualche minuto meno alessandra ho visto prima un portale è come se lei percepisse io ho sempre visto che le 333 con i numeri primi sono comunque dei portali che si aprono particolarmente durante la notte questi portali possono essere possono servire per le abduction e o per semplicemente un discorso a livello energetico più idoneo per fare i passaggi tra i loro loro mondi le loro dimensioni e la nostra e lei lo percepisce a lei ha una percezione di questo non sempre un discorso di abduction sua personale come se lei infatti l'avevo chiesto prima serve pure 3 30 33 lei percepisce la un'energia diversa e questa energia diversa la la fa la sveglia se lo percepisce l'ho visto prima mentre ce lo raccontavo è sottoposta ad abduction adesso se sì quante al mese adesso un al mese forse poco a un clone a cloni due in disattivi inattivi chiusi pronti per essere attivati al momento impianti che reciba guarda se ci sono anche mentali l'unico impianto mentale visto finora l'ha visto elena ed era una sorta di guscio intorno al corpo una specie di scafandro io ho voluto adesso mi stavi e stavi parlando in un pianto mentale lo vedo più emoti sì che si auto lei sia un auto auto messa a livello motivo sì emotivo un blocco è come se lei dice che si sente sola e vorrebbe non esserlo però in realtà è come se alimento sia lincia si blocca lei da sola venivano mai detto l'impianto mentale come se vedessi un pesante una bottiglia un tappo ecco come se la lei fosse la bottiglia e avesse messo un tappo per non uscire quindi in questo senso sì quindi si auto crea una situazione di solitudine ma è lei che se la crea perché lei nessuno la vieta di domani mattina prendere dire oggi che ne sono vado al bar mi siedo prendo un caffè faccio amicizia non c'è comunque lo vorrebbe ma c'è qualcosa che la frena ne ha paura e quindi si auto mette un si chiude quindi a livello mentale sì questo per quanto riguarda gli impianti invece fisici e ternici allora c'è un una lastra che le va dalla dalla schiena e gira come se fosse un nulla hop sul sui fianchi e ne arriva sulla sotto lo stomaco sulla pancia come se fosse proprio un contenimento lo vedo proprio così ok questa è la causa anche dei problemi alla pancia con la piatta e lentezza intestinale sì perché è come se fosse un blocco totale all'interno del quale poi c'è le dl che quello che spesso le dl se li utilizza questa zona qui perché molto emotivo lo stomaco che la utilizza anche lui questo questo lula hop e lo chiamo così insomma questo impianto che che la blocca come se la ferma un cerchio la tiene fermo vedo quello e poi delle dei pallini nell'utero causa esoterica dell'occhio sinistro che vede poco per questa cosa mentale su un riflesso di questa cosa mentale su di questa parte è come se fosse direi quasi che come se fosse l'anima meno lei vede meno percepisce meno meno riesce a uscire fuori e quindi è come se fosse tutto autocreato è tutto e lei cambia causa circa dei problemi nelle gambe il sangue fluisce non bene che lei a livello energetico si conquista alla cintura esatto come cittura bloccasse proprio la il fluide a livello energetico nell'interno delle sue gambe perché comunque il il sangue scende verso il basso e quindi rimane lì stessa domanda sulle mani stessa risposta è stessa cosa si blocchi schiena la schiena e la vedo come una sempre un discorso energetico come una pesantezza del mondo come una pesantezza di portarsi delle dei fardelli di cui non riesce a liberarsi delle domande che lei si pone al quale comunque per quanto ultimamente particolarmente vede un atteggiamento più come dire non me ne freghi sta però dire la serie ok basta non è arrivato il momento di pensare a me però lei è come se avesse comunque a livello inconscio delle cose che le stanno sulle spalle sulla schiena e non le riesce ad abbandonare nel se le porta dietro e quindi questo le provoca pesantezza ok la stessa cosa lei ha detto l'occhio sinistro e lei detto vero sì sì è un impianto è detto è legato a questa cosa mentale sua del del discorso un impianto mentale tra virgolette del energetico dove lei si blocca quindi è c'è dalla nascita quest'occhio sinistro dico che se che vede poco è stato messo una scelta sua proprio come una scelta sua no bene genitori senza analizzarli lei si sente non voluta vabbè non voluta non accettata e addirittura lei si chiede se i genitori hanno una ps la solita a noi contattano tutte persone del stesso tipo sono tutte pecore nere sono tutti considerati quelli strani della famiglia non è un fatto negativo il contrario non è che la famiglia importante dobbiamo andare tutti d'accordo perché vuol dire che non siamo consapevoli se andiamo tutti d'accordo siamo purtroppo in un mondo di addormentati essere la pecora nera è un privilegio vuol dire che si è svegliati si è svegliati abbiamo preso la pillola rossa non quella blu gli altri c'hanno quella blu e va bene così se uno vuole restare qui che ci resti se uno vuole farsi il civacca che se lo faccia fine non devono influire sulle mie di scelte devono influire sulle proprie se vogliono considerarmi strano e strane alla società a ora ma benissimo prendetevi la pillola blu va assolutamente bene lo dico al massimo della serenità possibile hanno una ps il padre no la mamma si ok mi perdone rete questa domanda alessandra è figlia di suo padre io vedo sì perché non la vogliono non l'accettano semplicemente per questo che abbiamo detto ma ci sono delle vite delle vite passate che ci sono state che sappiamo che non è vero ormai lo sappiamo il karma non è una finzione però purtroppo ci sono anche delle vite passate con la mamma che non sono andate bene quindi come un c'è stato un rifiuto ricordo ma sì esatto una memoria di queste vite causa esoterica della solitudine va bene in famiglia l'abbiamo visto ma anche nel generale in realtà lei già detto si parla tutta questa situazione sua e poi la vita della della quelle due vite quando adesso me l'hai detto sia quella ricca quella povera diciamo questa dualità che lei mi ha mostrato in realtà è sempre stato si è sempre sentita sola anche in quelle due vite quindi come un ricordo della della sua ps e quindi nel momento in cui la si rende conto comunque qui che può fare qualcosa perché lì non se ne era resa conto e abituata a avere questo ciclo quindi dovrebbe come si dice fai qualcosa di diverso se vuoi che le cose cambiano cioè fai un'azione diversa quindi non ripetere le stesse cose perché altrimenti continui a stare nella tua solitudine anche se lo vuoi non basta desiderarlo dopo il desiderarlo bisogna fare un'azione causa sottica del fatto che in cinque anni ha chiuso un posto sicuro è una relazione tossica questa non è una grande domanda ma io te la faccio lo stesso non è una grande domanda perché se la relazione era tossica e il posto c'è l'ha descritto con dire se la torna la riguarda serone esatto cioè ascoltare la parte subliminale però la vera domanda è perché è da allora è bloccata su tutto questo non è automatico perché stare lontano da ok ma poi devi andare verso qualcosa quindi lei è riuscita a stare lontano da e ok ma poi dove vuoi andare non lo sa quindi lei lei si è concentrata sul ha cambiato la vibrazione ha capito qualcosa quindi automatico che certe cose che ti si allontanano e quindi sei andato lontano da quella quella cosa che andava bene per te fino a un certo punto della vita che ti ha insegnato quello che ti doveva insegnare al quale hai fatto le due esperienze hai appreso si è diventata la persona che si è diventata fino a quel momento ora non serviva più come dire quel che se ne va ha fatto il suo compito non serviva più sì è ok e poi però sei arrivato qua e poi adesso devi andare avanti dove vuoi andare quindi se non sai dove vuoi andare e rimani lì perché non indirizzi la tua energia verso qualcosa ecco questo tutto chiaro adesso hanno fatto un corso di disegno adesso fa dei disegni che sono molto vicini alla parte subliminale e lei fa parte non conosce e cioè fa dei disegni e si connette a queste persone che non conosce questa condizione è reale è sua o immediata da interferenze c'è un c'è un euro un elohim che non è suo se non sta con lei ma che viene richiamato quando accade questa cosa a lei allora è reale nel senso comunque lei ha la capacità di essere una persona di un'anima sensibile e anche umile mi dice questo cioè sento questa parola quindi si apre a di fronte a questa una persona che mentre fa questa cosa è come se lei dice dice ok che battaglia stai combattendo cioè sono un quindi non ti giudico vediamo è ok però la il discorso è come se questa pratica proprio sia legata a un elohim in particolare ma non legato a lei a questa cosa che lei fa quindi arriva in quel momento e si chiudono i canali e lui va via quando non lo fa più in sé per sé il disegno c'è questa cosa del disegno la vedo reale però purtroppo finché non lei non sapeva quindi non sai che comunque viene interferita non ti puoi proteggere quindi alla fine viene interferito anche dopo io vedo anche dei grandi momenti emozionali suoi mentre fa questa cosa però sono sono reali al 60 al 40 per cento al 60 sono manovrati da da energie diverse ma perché la tecnica malata drogata o perché lei adesso ha delle interferenze quindi dopo la sessione non le avrà più e lo potrebbe fare questo processo io semplicemente si connette con altri e quindi riapre dei canali un po reiki insomma allora normalmente il consiglio sarebbe meglio di evitare ognuno al suo percorso quindi ognuno al suo percorso ognuno fa le sue scelte c'è tra io nel momento in cui c'è questo è un punto d'inizio per lei quindi in questo momento sarebbe bene chiudere le situazioni evitare di aprire canali incogniti perché in realtà poi non è che stiamo sempre in condizioni di ipnosi quindi io adesso lo vedo ma se poi sto non sono in ipnosi non lo posso vedere bene quindi comunque diverso quindi il consiglio sarebbe meglio di evitare di chiudere il canale di concentrare la sua energia anziché sul connettersi agli altri ma su connettersi su se stessa e vivere il resto di questa di questo suo viaggio qui nel migliore dei modi possibili questo è quello che mi sento di dire da qua ok come vedi il ex i figli e credo la madre nel cinema la madre giusto sì allora il figli sono passati in una fila davanti c'erano in terza fila sono passati alla seconda sono più interessati e in particolare in particolare ce n'è uno che ha più giovani e più per il più piccolino più giovane lo cammino età che è molto interessato e molto sorpreso da tutto questo ok che ho conosciuto il capo ad alessandra quello che ce l'ha con te è il più grande lo che c'è di più è il più piccolo è più piccolo quindi questo più interessato quello che ce l'ha maggiormente con lei si viva come se come se dice non mi aspettavo che lei fosse così però a fare questo riuscisse a non è proprio sorpreso questo è quello che vedo sorpreso ok va bene cosa vuole fare alessandra c'è un cluster che aspetta dice devo mettere a posto i tasselli del puzzle adesso ci sono tante informazioni qui adesso io devo mettere prendere tutti i tasselli del puzzle e li devo mettere insieme bene andiamo al cluster ci sono ben 3878 72 vite ci saranno ci saranno tantissimi contratti stipulati con entità eteriche con entità mentali il cluster me lo mostra come un una montagna rocciosa lo mostra così la roccia perché lei è molto legata alla terra alla alla terra proprio la roccia alla forte me lo mostra così mi mostra questo questa roccia e apre questa corticina all'interno della roccia e dentro come una grotta però una montagnetta diciamo ci sono tutti i suoi fatti sabrina non ho mai fatto questa domanda c'è il contratto 0 il contratto 0 è quello che dice quello che la ps che stupida con l'inganno è venuta nella matrix pensando vado nel paese dei balocchi e viene nell'inferno il contratto 0 è quello che dice sì sono stupida vengono la matrix quando si stacchi dalla sorgente entri in una stanza vieni preso entri in una stanza ci sono farfalline che volano via le altre vengono si staccano dalla sorgente come se sono troppo più curiose e quindi alcune vengono prese altre scappano via quelle prese e come se di improvviso entrano in una stanza boia con un faro sopra e poi arriva io lo vedo come un uomo come un mi vengono quelli che no bull di buddhisti no vestiti così come posso dire dei guardiani una sorta di guardiani che arrivano lì e ti presentano vari come un mazzo di carte con vari con varie vite con varie possibilità che tu puoi scegliere e tele proiettano davanti un davanti a te come dei film però queste carte che ne so se la carta della mantide la detto scegli quella la tiri fuori e la mantide di presenta questa vita nel guardiano è quello che c'ha le carte le varie possibilità le varie carte hanno un proprio quello che propone insomma un proprio entità che ti propone e ogni entità una vita diversa e tu la scegli e lì in quel momento quando tu scegli ok voglio fare questa esperienza qui presentata da questa entità qua che ti seguirà tutta la vita e più lì si crea firmi il contratto vedo proprio la ps che con la con questo guardiano che chiama l'entità dal quale tu di quali tu hai scelto la vita e questa entità ti presenta questo libero bianco davanti dove tu metti dove ha scritto il libro della tua vita di quella vita che tu farai lì metti la firma succede questo e da quel momento in poi la ps scende giù in una sorta di come se si artificiali jazz e vedo un tunnel artificiale insieme all'energia e arrivi giù ok ma c'è un momento in cui la ps firma il primo contratto 0 ma c'è con la firma se è quello dentro la stanza e l'ho visto bene tutto via dimmi rapidamente come lo fa prende questo sasso enorme all'interno del quale ci sono tutti i suoi fatti adesso eppure abbastanza fastidida quando ha visto tutto questo dice come si dice mamma mia che cosa abbiamo fatto prende questo sasso enorme lo apre un buco definitivo lo lancia insieme a tutti i suoi fatti che sono all'interno del sasso c'era anche il patto 0 contro 0 sì andiamo all'avatar qui l'avatar scrive più velocemente possibili lei lo fermo fa così con la mano e lo fermo e dice no basta adesso io io state lì a scrivere la mia vita adesso voglio sbloccare portali via è inutile stare a discutere con un fantoccio inesistente virtuale olografico che scrive siamo qua a parte di avatar fatto ma tra noi e tutto la loro eliminarlo tutti in automatico cioè basta basta con l'avatar addirittura l'avatar è incomprensibile il fatto che dobbiamo fare questo lavoro incomprensibile bene detto questo vediamo se ci sono ancora qualcosa non ti faccio l'elenco perché è sempre lo stesso ad action e lui ma anche se era esterno idl entità mentali impianti tutta è ricoperta di una luce verde forte le eliche del dn alessandra non sono più considerabili perché sono non utile punto più interessante invece la percentuale di cervello utilizzata 5 e mezzo 8 8 molto più interessante la vibrazione 23 miliardi 57 miliardi ok molto più interessante del livello di consapevolezza 275 molto più interessante psp s libro ps 54 ok vite precedenti molto più interessante la vita precedenti che possono cambiare di numero 1853 ok è assolutamente miliardi di volte più interessante la offerta che noi facciamo sempre da adesso in poi della pillola vic vibrazione informazione consapevolezza la vibrazione può essere aumentata a valori a piacere l'informazione tutta quella delle mie sessioni la consapevolezza è il risultato pillola vic tripartita vi i c preso ok solo la vibrazione aumenta in questo momento aumentata 75 quindi era già messa in pratica offriamo cartocci di pop corn nel cinema ma dentro ci sono tante pillole vic dimmi solo chi se le mangia chi se le prende subito il l'ex poi subito dopo il figlio quello che è ancora davanti già molto interessato invece in cui posso capire tante cose questo ragazzo è molto vuole fare come se volesse uscire fuori da essere come dire un migliori spiccare emergere quindi la vede come un'opportunità ok messaggio finale della ps e della pie di alessandra ad alessandra ottimo lavoro ma non ti fermare questo è un punto di inizio se vuoi che le cose cambiano delle variazioni diverse basta la consapevolezza l'informazione è un gran passo quello che hai fatto però adesso da da domani nei prossimi giorni nel prossimo periodo inizia a fare azioni diverse cose che non hai mai fatto perché solo così puoi cambiare il percorso e fare delle dei test per vedere qual è la tua giusta strada ma se continui a fare sempre le stesse cose rimaniamo qui non ci muoviamo non è più niente che ti lega adesso sei libero muoviti verso un qualcosa di nuovo di diverso cambiano abitudini la valia abitudini che non ti piacciono e che tu sai e non ti piacciono crea nuove azioni e le nuove azioni porteranno nuove conoscenze nuove consapevolezze nuove emozioni e le nuove emozioni ti faranno vivere cose diverse e quindi metterà in moto il mulino della tua vita che è stato fermo da un po adesso abbiamo spolverato il mulino del pronto adesso tu hai attirato il vento per farlo girare il tuo mulino ecco basta fai un controllo verabilissimo alla casa di alfandra c'è una questa come se tutta la sua energia si fosse si espande l'italia sua casa è venuta la casa verde che in questo momento quindi non è tutto volito e anche gli animali sono voliti con la sua polizia la sua innalzamento della sua vibrazione essendo avendo scelto lei lei lo ha già fatto benissimo e allora abbiamo finito quindi sei pronta a tornare disconnettiti allora da tutto e tutti ne torniamo pochè